Non so, peggio di un animale perché ha un colore diverso e si taglia la pelle di bianco e di neve, vengono solo sangue rosso. E chi ha sangue verde alzare le mani, nessuno ha sangue verde. Quindi dobbiamo rispettarci, dobbiamo rispettarci. Non dobbiamo continuare a chintuare la gente che diventano ignoranti di ammassare qualcuno per niente. E voi sono gli esempi, quindi dobbiamo dire basta, basta il racismo. Basta il racismo! 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 Occhio qua davanti. Oh, Zenzi, Zenzi, fai andare piano perché c'è un gruppo dietro al camioneta. Andiamo!